Ciao a tutti, mi chiamo Fabrizio Bassetto, sono referente per la Valle del Samoggia dell'Italia dei Valori. Noi come partito siamo assolutamente favorevoli alla fusione dei cinque comuni della Valle del Samoggia per una serie di ragioni. Le prime sono di politica generale. Considerate che in Italia siamo afflitti da nanismo amministrativo. Spendiamo 60 miliardi di euro all'anno in più rispetto alla Germania per mantenere i nostri livelli di governo. Sono assolutamente troppi, con quei soldi si potrebbero fare molte cose a favore delle famiglie e delle imprese. Siamo per l'abolizione delle province e siamo per aggregare i piccoli comuni in macro comuni che possano interfacciarsi direttamente con la Regione. A livello locale noi consideriamo che esiste già un'identità di vallata, un'identità precisa. Guardiamo dalle abitudini dei cittadini, guardiamo dove vanno a lavorare, le strade che percorrono, l'esistenza di questo mercato che è un mercato di vallata, l'esistenza di un ospedale che è fruito da tutta la vallata e la complementarietà del territorio da Savigno alla campagna di Crespellano. Oltre a questo non dobbiamo dimenticare che con le spending review, con i tagli continui dello Stato, con il patto di stabilità, i servizi per le famiglie e per i cittadini nei piccoli comuni sono sempre più a rischio e in più non si riesce più a investire, non si riesce più nemmeno a fare le manutenzioni. Mettersi assieme, mettere assieme le risorse, avere delle risorse aggiuntive da parte della Regione e dallo Stato permetterebbe prima di tutto di resistere, resistere nello Stato sociale per continuare a garantire servizi per i cittadini. Ultimo aspetto che voglio sottolineare, noi stiamo lottando per creare nella vallata un polo scolastico superiore. Nella seconda cintura di Bologna questa zona è l'unica che non ha delle scuole superiori. Ora riteniamo che tanti piccoli comuni abbiano una scarsa possibilità di arrivare a una struttura così importante mentre un comune di 30.000 abitanti potrà contare di più nelle sedi istituzionali e potrà arrivare anche a questo obiettivo grazie anche al fatto che con la fusione per alcuni anni non sei soggetto al patto di stabilità e quindi finalmente puoi spendere quelle risorse che abbiamo accantonato negli anni passati perché siamo comuni virtuosi che abbiamo accantonato oltre 4 milioni di euro a Crespellano oltre 2 milioni di euro a Bazzano e quasi 2 milioni di euro a Monteveglio e poter mettere parte di queste risorse magari con altre aggiuntive sulla creazione di un polo scolastico permetterebbe di impedire che dei ragazzi da Savigno si sveglino alle 6.15 al mattino per andare a scuola e tornino alle 4 di pomeriggio grazie